Restano stabili i contagi nei comuni vesuviani. Nel comune di Torre del Greco, secondo l'ultimo bollettino risalente a venerdì sera, si è registrata una sola nuova guarigione, certificati invece 4 nuovi casi di positività. Continua a mutare dunque il bilancio dei contagiati con 85 attualmente positivi, di cui 9 ospedalizzati. Nel comune di Torre annunziata si sono registrati 3 nuovi casi di contagio nelle ultime 72 ore a fronte di 194 tamponi processati, con l'indice di positività che si attesta all'1,54%. Al contempo si registrano 6 guarigioni. Sono 42 i cittadini attualmente positivi. Le dosi di vaccino somministrate sino ad ora sono 49.008. I cittadini che hanno ricevuto sia la prima che la seconda dose sono 22.100, 61%, mentre quelli che hanno ricevuto solo la prima sono 26.908, 74%.